Max, tu eri partito più critico, ti è piaciuta un po' la spalla in questi primi minuti, permesso che insomma, beh, ne abbiamo ancora 80 davanti. Ma innanzitutto vedere questo prato verde, questa bella terra lucente, questo clima quasi estivo, anche se prima piovigginava, e poi guardare fuori dalla finestra e vedere la nebbia della pianura padana mi rievoca un po' di nostalgia a Salentina e della città di Lecce che amo profondamente e che sono stato diverse volte. Però scendendo il lato vacanziero della cosa, è una partita combattuta.